A San Siro nel premio Locatelli che assegnava in prova unica per un antisportivo regolamento il campionato d'Italia 1978, De La Sturra ha vinto molto bene la partita in partenza scavalcando Wayne Eden che gli partiva all'interno e subendo senza grossi danni dobbiamo dire la pressione esterna di Acti Yankee, mentre Wayne Eden seguiva nella scia del battistrada quindi Waymaker che poi doveva rompere a lungo e Dalco 2 campione uscente del 77, era un pomeriggio nebbioso piuttosto umido qui vediamo una fase al rallentatore quasi al termine della retta di fronte, sempre bene al comando il portacolori della Packerson che vincerà sul piede di 16 e 2, ecco che a 100 metri dal palo Anselmo Fontanesi con Wayne Eden gli porta un attacco tremendo, si allunga l'elastico nei confronti degli altri cavalli che sono cappeggiati da Dalco ma Vivaldo Baldi ha fatto bene i suoi conti e De La Sturra vince ancora con un margine sufficiente nei confronti di Wayne Eden, poi al terzo posto Dalco, poi c'è Wayne Maker che finirà squalificato e Acti Yankee, c'è stata un'assurda contestazione al giro d'onore nei confronti di Vivaldo Baldi, forse il pubblico milanese troppo preso dall'addio alle piste di San Siro di Wayne Eden, era tutto per il cavallo rapito e non per il vincitore del campionato.